Torna allo spettro dell'incertezza sul futuro della FIMER di Terra Nuova Bracciolini, azienda specializzata in produzione di inverter per il fotovoltaico. Il destino dei lavoratori dello stabilimento è infatti ancora appeso al verdetto dei giudici dopo la bocciatura del piano di salvataggio da parte del Tribunale di Milano. Insomma, l'ennesimo colpo di scena di una vicenda che sembrava volgere al termine dopo il versamento della prima tranche di 5 milioni da parte di Grebul McLaren che si è impegnata ad acquisire il 100% dell'azienda mettendo sul piatto un piano di rilancio da 50 milioni di euro. Lo scorso 5 ottobre era stato ascoltato in udienza il nuovo legale di FIMER che aveva illustrato il piano di salvataggio accompagnato da un nuovo attestatore per certificare la sostenibilità del progetto e garantire la continuità produttiva. Piano di salvataggio però messo in discussione dai giudici milanesi per gravi lacune. Dalla procura invece la richiesta di dichiarare lo stato di insolvenza. Tre adesso gli scenari possibili. Nel primo caso i giudici potrebbero accogliere la proposta concordataria che andrebbe comunque riformulata dalle parti in maniera corretta. Una seconda opzione potrebbe essere quella di bloccare bruscamente l'iter e quindi riportare le mestranze in stato di crisi. La terza infine è quella di procedere verso l'amministrazione straordinaria di FIMER. Grebul McLaren avrebbe chiesto altro tempo per poter mettere mano al piano e presentarne così una versione accettabile. Nell'azienda valdarnese infine si continua a lavorare a singhiozzo con turni del reperto produttivo ancora diradati.